Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebimete, una circolazione depressionaria a porta dell'instabilità in Liguria per la giornata di giovedì, specie nella seconda parte del giorno, 20 attratti moderati con mare poco mosso. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'imperiese, al mattino contesto asciutto con parziali schiarite, poi dal pomeriggio piogge e rovesci non esclusi, locali temporali, temperature massime fino ai 20-21 gradi. Sul Savonese situazione molto simile, anche qui fenomeni da segnalare nella seconda parte della giornata, i valori massimi intorno ai 19-23 gradi, su Genova ed intorni da segnalare delle precipitazioni sparse dalle ore pomeridiane, già nuvoloso però al mattino. Clima nel complesso piacevole. Sul Tigullio avremo della nuvolosità nella prima parte del giorno, ma in un contesto per lo più asciutto, poi dal pomeriggio anche qui si segnalano deboli precipitazioni sparse con temperature massime intorno ai 20-21 gradi. E infine per quanto riguarda la situazione attesa sullo spezzino non varierà di molto, anche qui il contesto sarà instabile, specie dal pomeriggio con precipitazioni sparse e massime non oltre i 20-21 gradi. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, il contesto resterà invariato, avremo ancora dell'instabilità per il passaggio di quest'area di bassa pressione in Liguria, con piogge sparse nel corso del giorno. Con questo è tutto, ma per saperne di più scaricate l'app di Travimetea. Grazie a tutti.